Direi al territorio di partecipare, di essere presente, di non sottovalutare le potenzialità, le capacità di questi fondi europei. Non sono molti questi fondi, abbiamo poco più di 200 milioni di euro, quindi abbiamo l'obbligo morale di fronte al contribuente, di fronte a noi tutti che paghiamo le tasse, di avere il massimo rendimento da questi fondi. Dobbiamo rinunciare alla dispersione, dobbiamo rinunciare agli sprechi e dobbiamo fare il massimo realmente per avere dei progetti di qualità. Che cosa vuol dire avere dei progetti di qualità? Vuol dire essere capaci di selezionare i progetti capaci di ottenere posti di lavoro e di aumentare la prosperità di questa regione. Quindi bando agli sprechi, bando alle perdite di tempo e soprattutto qualità al primo posto. La Commissione, come anche dalle parole del Dottor Nigri è emerso, ha preteso un piano di rafforzamento amministrativo che significa precisazione procedurale, precisazione di competenze, precisazione organizzativa. Il dato adesso è uno. Noi siamo stati tra le prime regioni ad avere approvato il PORFESR. Noi adesso ci dobbiamo concentrare per evitare, primo, il disperdersi rispetto agli obiettivi strategici che la regione deve conseguire. Secondo, dobbiamo puntare dallo speso alla qualità dei risultati. Terzo, organizzare un sistema di monitoraggio che faccia venire fuori davvero un profilo di efficacia. Noi oggi abbiamo voluto dare piena trasparenza, grande pubblicità. Abbiamo anche una diretta via streaming, stiamo utilizzando i social media per andare a informare tutta l'imprenditoria abruzzese. In particolare i più giovani, i più innovativi delle opportunità, dei 231 e oltre milioni di opportunità offerte dalla nuova programmazione 14-20. Per noi è importante che si creino occasioni di lavoro in un senso diverso rispetto al passato.